nella lettera di paolo ai galati 3 e 28 c'è scritto non c'è più giudeo né greco non c'è più schiavo né libero non c'è più uomo né donna poiché tutti voi siete uno in cristo gesù poi nella finale tra i corinzi capitolo 11 versetti 1 12 c'è scritto tuttavia nel signore né la donna è senza l'uomo né l'uomo è senza la donna come infatti la donna deriva dall'uomo così l'uomo ha vita dalla donna tutto proprio viene da dio questo dovrebbe bastare per farvi capire che secondo il nuovo testamento il sessismo e le discriminazioni di genere sono infondate in romani 16 1 san paolo ci fa sapere che esistevano le diaconesse nella chiesa antica fatto che secondo la storia più ufficiale queste qui avevano funzioni diverse dai diaconi oggi però di fuori della chiesa cattolica romana ci sono le donne diacono donne presbitere donne prete cioè oppure donne pastore nelle chiese protestanti e addirittura in certi casi le donne vescovo mi riferisco alla chiesa vetro cattolica ancora una volta la comunione anglicana la chiesa valdese altre chiese minori addirittura l'arcivescovo di washington della chiesa episcopale americana che appunto fa parte sempre della comunione anglicana e una donna sposata con figli questa è una delle ragioni per cui non ci sono più buoni rapporti fra la chiesa cattolica romana e quella vetro cattolica e anche con quella anglicana e tra l'altro sono forse compromesse definitivamente le possibilità di una piena comunione fra vetro cattolici e anglicani ortodossi cosa che sembrava da pochi anni fa essere possibile e anche per questo che molti anglicani migrano verso il cattolicesimo a proposito di ebraismo sono gli ebrei riformati che hanno i rabbini donna grazie a tutti